Uno del sud. Ce l'hai uno dei vampiri, quelli che succhiano. L'altro dell'est. Le disavventure di una strana coppia. Due, un po' così. Una buona notizia. Ragazzi, che cosa ne avete combinato? E allora, due figli? Eh, volessi sapere un po' questi soldi, questi come li spende? Ma, mi sono scordato di chiamare. Tu te ne devi tornare al paese, capito? Una commedia divertente e coinvolgente, che vi farà riflettere. Signor sindaco, solo voi mi potete aiutare. Non ci sono soldi. Hai trovato poi il lavoro al figlio di Maria o no? Un sindaco, un maresciallo, un intero paese. Riusciranno i nostri amici a ritrovare il lavoro? Noi sappiamo fare... Ripariamo muri, canzelli... State scherzando? Per poter lavorare sui cantieri ci vogliono i contratti, i permessi di lavoro, le assunzioni, i contributi pagati, tutto il resto. Una storia semplice, ma burocraticamente complicata. Se vi hanno riparato le tubature dell'acqua, invece di venirvi a denunciare, gli dovete fare un regalo. Siamo dalla parte dei delinquenti adesso? Ciao, ciao. Due un po' così, un film di Daniele Chiariello. Al cinema. Ancilla. Un film di Daniele Chiariello Ancilla. Un film di Daniele Chiariello Un film di Daniele... Cap Produzione! Un film di Daniele Chiariello